good morning sì qui sono praticamente siamo circa le 10 ecco dico in questi casi certo ma una mattina prestissimo mattinata inoltrata ma comunque mattina mister master maestro o semplicemente semplicemente david lynch it's me it's a june one 2022 and it's a wednesday evening was a clear morning in this moment by stir now 78 80 fahrenheit around 26 celsius and this means that it's that they really 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 soft like this days in this period also because it seems more a summer climate in the spring climate in altra parte tra 20 giorni between 20 days it will be summer queen is normal as a regard the video thoughts i don't know if i do it but i think of yes but in the case is always separate from this so eyes open if you're interested anyway i see and you all just see from a window you can see anything in these days and i think also in all the summer we open the curtain and show the green roller shooter per far reaggiare più che altro che fa caldo because it's hot and i think that this afternoon tempera potrebbe anche salire diciamo in estate in generale sale sempre un po' ma come da tutte le parti but really important thing anche se ormai già mattinata notate come in generale abbiamo we already have them is that today we have today we have those beautiful those beautiful those beautiful those beautiful those beautiful blue skies and golden sunshine and i think all along the way ovviamente all along the way qui sempre qualche a meno intendo soprattutto rispetto ai amici americani perché come sapete abbiamo un orario completamente diverso bene direi che giugno non poteva che iniziare meglio di così rispetto cioè anche se in punto anche maggio abbiamo avuto praticamente quasi sempre speriamo allora che anche giugno si possa ripetere in quel modo per cui i said this so from the mythical window with the orange red blue water curtain behind me and it's green and it's green rollershooter near me in these days in old summer less or more and finally from my mythical keyboard amati gx 640 ipg ipg 625 Ehi, great day in all the people Follow the channel Un saluto ancora a tutti E in dolso Lo farò tra poco Non so se lo sentite Ma soprattutto Spero possiate consolarvi Se il tempo dovesse essere brutto Da voi rispetto a qui No, ripeto Non che non ci consideriamo sempre Alla colazione Anzi, ma Personalmente Quando il tempo è brutto Vi consola un po' di più Poi la cosa curiosa È che in generale Le due parole Consolazione e colazione Se dette in italiano Fanno anche rima Alzi un video Dove se fa il Twitter Tomorrow